Ed eccoci al TGL News. Armi e droga, una maxi operazione dei carabinieri tra Piacenza e Monticelli, il bilancio 12 perquisizioni e 4 arresti. Ma restiamo in tema, ogni giorno un arresto o una denuncia per droga dobbiamo fare fronte comune, ha detto oggi il questore di Piacenza, Salvatore Arena. Lunedì incontrerà la cittadinanza in occasione della tradizionale festa della Polizia. Spazio inoltre ai lavori di restauro in Sant'Antonino e poi al Piacenza Jazz Fest perché stasera alle 21.15 allo spazio rotativo di Via Benedettine, gran finale con il concorso nazionale Chicco Bettinardi dedicato ai giovani talenti del jazz. Infine il calcio perché stasera è anche tempo di derby, Piacenza e Pro si affronteranno alle 20.30. Più tardi con il TGL News.